bella ragazzi ed eccomi tornato, sono GOZFRAX con un nuovissimo video, questo è velocemente un pezzo di mod, sono una decina di kill con l'L86SV se si chiama così penso di sì, una vedrice leggera con la quale ho preso una MOAB e vi dico subito che le ultime 2-3 kill le ho camperate ma sti cazzo che se no non l'avrei presa la MOAB, quindi mi fanno un culo, comunque questo qui è un video più che altro per parlare perché vi devo dire un paio di cose, sto per partire, intanto come prima cosa diciamo così vi dico che sto per partire, tra poco partirò e vado vicino Siena, c'è un paesino con mia madre e un membro amico e andiamo lì che c'è mia nonna insomma stiamo una settimana e poi tornerò, starò un paio di giorni a Roma poi ripartirò nuovamente e tornerò a settembre, quindi cercherò di caricare in questi giorni un vlog essendo l'unico mezzo per rimanere attivo su YouTube e quindi così ogni tanto un paio di volte alla settimana caricherò un vlog sul mio canale, quindi da adesso a settembre molto probabilmente vedrete solamente vlog e tranne forse insomma verso invito a passare nella pagina fan di Facebook, a iscrivervi al canale come state facendo, a rimanere attivi, vi saluto, vi auguro una buona estate, buone vacanze e divertitevi, fate tanto ho fatto tanto l'amore, insomma cazzeggiato tanto e vaffanculo pace e amore, bella attesa del segnale, madre di tutte le bombe alleata in arrivo, vi sotto controllo a